Comunque, hai visto? Cioè, ogni incarico è diverso dall'altro. Si capisce. Lavoro è lavoro. Eh sì. Oggi devi fare questo, domani devi fare quell'altro. Ehm, collega, ma sei sicuro che il comandante ha detto di venire qua? Regolante. Oh, gli ordini sono ordini. Non hai sentito? Cosa ha detto ieri? Ragazzi, andate a prendere il sole 24 ore. Un'altra due ore ce l'andiamo, non ti preoccupare.